contro l'anzevole soldato nemico in arrivo attenzione, dietro sono sciocchi, occhio sotto, ho sentito dei passi sotto oh le piastre me le siete zucate tutte ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato sangue fra Cree occhio dietro Cree occhio dietro il gazz occhio a quell'altro invece contro una facciazza bravi qua sotto dovete venire venite qua, venite qua Cree, lasciali perdere, sali qua su un gioco diretto sono tutti allineati tanto era tutto a cecchie ma gli angeli sono attaccati due coglioni no si ma trovano poco eccoli davanti a noi per favore guarda che finocchi bastardi guarda che finisci dove stai? dove stai? dove stai? dove stai pezzendo? su aspetta te che metti la testolina fuori aspetta te cambiottona no valteri no no valteri non conviene ma abbiamo 42 mesi mi fa troppo male questo ne restano 25 stai andando bene eccolo madonna eliminato si 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 Ma non giuro al servizio Occhio, occhio Si lo è Altro sapeva anche Al più lì anche Ma basta, potuti no siamo dopo scoperti bastardo ma te li rianimami tu a posto 15 12 vai qua ce ne non saliamo sicura abbiamo il carelletto facciamoci sto a b vediamo vai buttiamolo ah buttate 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 aspetta aspetta altri che si scappaccia via prolungo sta mirando qua orto addio altro che qua attenzione vuoi vendicarti in piedi per fare rifornimento bisogna pure scelmi non ci sono dietro no 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 porco giuda porco stringi denti ce la farai no la marco vuoi stare con te ultima corazza sono andata Kree circondiamo sta zona una a destra l'altra a sinistra lì sopra ce l'hai un altro a destra a destra quella destrino aspetta oh occhio boom si 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 abbiamo spaccato abbiamo spaccato abbiamo spaccato ma tu hai capito quanti soldi abbiamo fatto abbiamo fatto i passaggi 100.000 io ho fatto le catture l'ultima taglia che ho attivato è stato 280 punti no 300 punti ma guarda quanti punti ci da belli 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 questi clip qua devono guardare è tutto registrato domani Bob domani è tutto porco giuda porco il devasto c'è nicchia guarda quanti punti porco contratti sei abbiamo fatto sei contratti a testa pensa a te ti senti forte un applauso grazie a te grazie a te